Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi vi presento la collezione completa Mystery Monster della Toys 2 Surprise Allora, queste uova, perché di uovetti non si può parlare come ben vedete dalle dimensioni Queste uova io le ho trovate in una catena di negozi che si chiama Oddy Store Che oltre a tanta roba italiana vende anche un sacco di cibi e bevande provenienti dall'estero Che non si trovano nei nostri, nei consueti supermercati che visitiamo ogni giorno per fare la spesa Quindi non si trovano al Conad, non si trovano alla Copp, non si trovano all'Esse Lunga Oltre però a vendere prodotti in esclusiva provenienti dall'estero, di marche estere Quindi magari ci sono patatine tedesche o per esempio queste uova qui Caramelle provenienti dall'estero, eccetera, eccetera Hanno anche marche che si trovano nei supermercati consueti, definiamoli così Nei normali supermercati, definiamoli così Quindi troviamo, che ne so, tavolette di cioccolato M&M's Caramelle M&M's, troviamo Chupa Chups E in più troviamo dolci preziosi, troviamo gli uvetti della Zain In più negli Oddy Store si trovano appunto anche cibi e bevande Che non si trovano nei normali supermercati provenienti dall'estero Infatti queste uova qui le ho trovate solo negli Oddy Store Non so se oltre agli Oddy Store anche altri tipi, diciamo, di negozi Di minimarket o supermercati Che trattano anche roba dall'estero Li hanno, io da me li ho trovati solo negli Oddy Store Però non escludo che anche altre catene, altri marchi possono averli L'azienda in questione che ha prodotto queste fantastiche figure Scusate È la Toys Chew Surprise La collezione si chiama Mystery Monster Eccole qua, i Mystery Monster E appunto si trovano in queste uova belle grandi Insieme a un sacco di caramelle gommose Eccoli qui Vabbè, qua nell'etichetta non c'è un granché Adesso lo rimettiamo qui Sono molto pesanti Ben fatte, ben realizzate I vecchi collezionisti definiscono gommini Altri PVC Figuri in PVC perché molto spesso il materiale utilizzato per fare appunto questi personaggi in gomma È proprio il PVC Però insomma sono dei personaggi ben definiti, ben fatti, ben colorati, molto carini Ma soprattutto abbastanza pesanti Non è che sono pesantissimi perché anzi sono molto leggeri Però ripeto, molto pesanti rispetto magari alle normali sorpresine degli ovetti Kinder o anche della Zaini Questa è tutta la checklist Vedete, ogni mostro ha il suo nome Quindi abbiamo Smokey Abbiamo Johnny Bones Abbiamo Ludo Abbiamo Octopit Abbiamo Dusty Abbiamo Howling Howie Quindi Poi ogni cartina ovviamente davanti alla checklist E poi nel retro c'è il personaggio Quindi quando si trovava per esempio Lui è Johnny Bones O Johnny Bones Appunto quindi quando trovavamo lui Trovavamo questa cartina Perché ogni personaggio come potete ben vedere Ha la propria cartina Quindi il fronte della cartina è uguale per tutti Mentre il retro cambia ovviamente a seconda del personaggio Guardate anche quanto sono grandi le cartine Quanto sono belle le immagini Veramente una bella, bella collezione Fatta benissimo I personaggi, ripeto, sono carini Ma adesso ce li vediamo nel dettaglio Anche le cartine sono spettacolari, enormi Guardate che disegni Che sfondi, che ambientazione che hanno dato Cioè hanno proprio ripreso alla grande Hanno centrato il tema Hanno scelto bene i colori Le immagini, i disegni Bravi, bravi, bravi Eccolo qua Gli ho fatto dare un'altra veloce occhiata E adesso invece vediamoci i personaggi Allora, Smokey Lui è Smokey Questo drago si chiama Smokey Guardate come sono fatti bene Carini Poi Vediamoci lui Johnny Un Johnny probabilmente esausto Che si sta riposando Dopo aver spaventato Un sacco di bambini Vedete Ha anche un leggero gioco Qui il braccio Però Da non Da non stimolare troppo Diciamo Perché anche qui la mano Perché vedete Essendo in coma Poi magari potrebbero staccarsi Potrebbero staccarsi i vari pezzi Però Diciamo un piccolo gioco Un piccolo movimento C'è là Poi ci vediamo Octopit Questo polpo Guardate un po' Octopit Eccolo qui Octopit Poi c'è Ludo Che si ispira A Frankenstein Come possiamo ben vedere Una sua versione Molto Cartonesca Poi abbiamo Dusty E la mummia Nelle collezioni di mostri Non manca mai E del resto La mummia È veramente Immancabile Poi abbiamo Questo lupo Mannaro Che è Howling Holy Eccolo qua Vedete come Sono ben definiti Guardate qui il pelo Guardate come è ben fatto Sono Sono fatti veramente bene Una bella collezione Veramente Bella Per dire Bella Spettacolare Anzi Possiamo definirla Senza problemi Una collezione Spettacolare Detto questo Ragazzi Io vi invito Ad iscrivervi al canale Per non perdervi Questi e tanti Tanti altri video Sul canale Già ci sono più di 400 video E tanti altri arriveranno Un sacco di playlist Che spaziano Dalle sorpresine Alle minifigure Alle action figure Al wrestling Alle cards Yukio Wrestling Caccio Eccetera Ai videogiochi Agli amazon unboxing Ai libri Ai fumetti Ai manga Ai gadgets Alle novità Per quanto riguarda I cibi e bevande Che escono nei nostri supermercati E non solo Quindi C'è tanta tanta roba Mi raccomando ragazzi Iscrivetevi Al canale In descrizione Vi lascio anche il link Dalle pagine facebook Di instagram Del canale Se volete Seguitemi anche lì Lasciate un bel mi piace Al video Invitate anche i vostri amici Ad iscriversi al canale Condividete questo video Con i vostri amici Condividetelo Sulle vostre pagine facebook Condividetelo Su una chat Di whatsapp Telegram Dove volete voi Se volete condividetelo E sempre in descrizione Trovate anche oltre Ai link Per la pagina facebook E per la pagina instagram Del canale Trovate anche il link Al blog del canale Dove scrivo articoli E recensioni E news Su film Anime Serie tv Ed action figures E non solo Detto questo ragazzi Io vi rinvito Ad iscrivervi al canale E noi Come al solito Ci becchiamo Al prossimo video Ciao belli